Questo è il racconto di Visco Pinaldi, poeta, scrittore e protetto dei Santi, che dalla provincia più disgraziata partì alla ricerca di vita e di strada. Nel sangue portava il segno lampante, l'ignaggio di stirpe creativa e potente. In spalla reggeva una sacca usurata, con dentro i suoi attrezzi con la cima spuntata. E come un bambino ingenuo e curioso, delle razze trattenne il verbo prezioso. Di buone vibrazioni suonò gli strumenti e lasciò casa sua con il sorriso tra i denti.